Il primo punto è lavarsi le mani, poi bisogna evitare di messa in modo così e la rivincita di quelli che hanno il nasone, per toglierla prenderò gli elastici di nuovo non toccarla durante tutto il tempo e metterla così e poi buttarla via buttarla, fine della mascherina, cioè quelli che vedo che tirano sulla mascherina e fumano e poi la ritirano giù Lavarsi le mani No, no, siccome diciamo è pieno, li vedo che spostano per... Io ho visto gente che la porta così Ecco, appunto Lo spieghi, quella è anche autoinfezione Sì, come? No, dico, quello che la abbassa, la alza, ci fuma Sì, no, è del tutto inutile perché cosa vuole che funzioni? Ma c'è anche un rischio di autoinfezione Certo, no, è chiaro che se uno se la tocca, eccetera, non ha molto senso Allora, se psicologicamente la cosa, però bisogna sapere che c'è un limite alla mascherina Non è che noi la utilizziamo certamente per la prevenzione delle malattie a via aerea Però non è... Ecco, forse, se mi posso permettere, la mascherina potrebbe dare quella falsa sicurezza Che uno poi non mette in atto misure... Delle altre misure di tutela Bruciatele, bruciatele Però no, scusatemi, voglio ricapitolare a casa Perché poi noi ovviamente ci concediamo anche un sorriso ogni tanto Però il tema è assai serio Perché tante persone stanno comprando le mascherine Si sentono più protette con le mascherine Allora almeno diamo le istruzioni perché le usino correttamente Quindi la prima cosa che assumiamo dal professor Cauda È che una volta che l'avete utilizzata L'avete utilizzata per tre ore, quattro ore Dopo la dovete buttare Ma anche di più, insomma, dipende dal tipo di mascherina Insomma, una giornata quello che utilizzate Sono quelle professionali probabilmente meglio Anche perché una giornata come può... Uno lo deve mangiare poi a questo busto E certo E poi quando la togli non è che la può riutilizzare E una volta che l'ho tolta la devo buttare Corretto, professore? Sì, è certo Sia se la tolgo perché devo mangiare Sia se la tiro su, la tiro giù la devo buttare Sicuramente, scusi, siamo, una volta utilizzata Non c'è il riutilizzo Poi se qualcuno la utilizza Non è che gli mandano i carabinieri a casa No, no, immagino di no Però noi stiamo dando delle istruzioni di tutela Oppure potrebbe, potrebbe Perché sai, in medicina il bello è che c'è questo condizionale Non c'è mai il, mai la certezza Potrebbe, potrebbe di sì Potrebbe anche avere un problema la mascherina Potrebbe avere anche un problema Perché se si è attaccato qualcosa Non è detto assolutamente che se uno se la mette, scusi, in questo modo Si prende toccandola dentro Come ho visto fare in questi giorni Anche lungo le strade È che si piglia il Covid-19 Anzi, nella stragrande maggioranza dei casi Non andrà così Però se l'avete messa a protezione Magari vi create un problema Alessio? Profesor...